Nodo Prusik. Prendete il vostro anello di cordino in modo tale da piegarlo e avere circa due dita di spazio dalla curva dove andremo a applicare il moschettone. Fate passare la parte col nodo all'interno di questo spazio circa due o tre volte. Fate attenzione a tenere queste spire non sovrapposte. Arrivata a questo punto, entrate un'ultima volta con il vostro nodo di giunzione sotto questo passaggio e acquistate tutte quante le spire. Fate ben caso i due pezzi di corda siano al centro e ci siano tutte le spire ai lati ben sovrapposte e non ci siano sovrapposizioni che sporchino il nodo. Ecco pronto il vostro nodo Prusik. A questo punto noi andremo a far lavorare il nostro moschettone ben lontano dal nostro nodo di giunzione.